Ah... Mmm... Mmm... Bello, bello là... Metta, ma... Oddio, che ore su uno? Oddio, ma è l'ora! Ragazzi, ti puoi installare, c'è ragazzi Core Evolution 2! Sì, vai, vai! Vai, vai, sì, vai! Scarica, subito! Sì, 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 non mi interessa, vai, su, su, veloce! Ok, perfetto, sì! Mentre... Osti, eccolo! Bene! Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Ciao!